Quando James e Brittany Campbell si trasferiscono agli Hawaii, sono al settimo cielo. Non vedono l'ora di iniziare la loro nuova vita, sono sereni, felici. Non sanno però che dentro le mura della loro nuova casa si nasconde qualcosa, o meglio, qualcuno di davvero inquietante. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui e oggi voglio farvi sbloccare un'ansia che ancora non avete. Avete presente quando siete in casa da soli e vi sentite osservati? Ecco, a volte non è solo una sensazione. Prima di cominciare però devo dirvi che su Pampling trovate tutte le magliette e le felpe che indosso nei video, tra cui questa, che d'ora in poi diventerà la maglietta ufficiale del canale, cioè, è perfetta. Jason di venerdì 13, con scritto Friday, che è il nostro giorno perché i video escono il venerdì, cioè non c'è maglietta più adatta per il canale, davvero. Comunque sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione, sta avvenendo una mega liquidazione. Ciò significa che per ancora pochi giorni ci sono oltre 200 magliette, a partire da 5,99€. In generale ci sono degli sconti mai visti sul sito, quindi fate un giro se volete e se trovate qualcosa che vi piace, tipo questa maglietta, inserite il codice ANDREW al checkout, così vi regaleranno anche delle calze a vostra scelta, totalmente in omaggio. Io ho queste, col fantasmino, bellissime. Detto questo, scusate ragazzi, e cominciamo subito. Nel 2019 la famiglia Campbell si trasferisce alle Hawaii in un tranquillo quartiere di Honolulu. Per loro è stato subito amore a prima vista, ma anche se all'inizio questa storia vi sembrerà felice e spensierata, si rivelerà essere decisamente agghiacciante. Potrebbe tranquillamente essere la trama di un film horror, non sto scherzando. Tutto bene? Ma partiamo dall'inizio. Nel 2018 James e Brittany Campbell si sposano a Las Vegas. Cliché, perché, oh, negli ultimi tre video sempre c'è qualcuno che si sposa a Las Vegas. Comunque, anche se il loro matrimonio non è quello tradizionale, in qualche modo sembra perfetto per loro. Brittany ha 36 anni, è estremamente energica, estroversa e a volte si definisce un po' pazza. Tutto il contrario di James, 35 anni, che invece è riservato, tranquillo e poco impulsivo. Nonostante la grande differenza che si frappone tra i due, la coppia aveva già avuto un amore al liceo che però non aveva funzionato. Dopo la rottura, i due non si aspettavano di rincontrarsi, ma quasi 20 anni dopo, l'amore è scattato di nuovo, questa volta destinato a durare. James è un padre single e alla ricerca di una partner con cui condividere la crescita e l'amore per i suoi figli. D'altro canto, anche Brittany vuole mettere alla prova il suo spirito materno. Un anno dopo il loro matrimonio, quindi, James, che prestava servizio nella marina degli USA, riceve l'ordine di trascorrere un paio d'anni lavorando in una base navale alle Hawaii. Così, i quattro membri della famiglia, insieme al loro gattino, fanno le valigie e lasciano gli Stati Uniti per atterrare a Honolulu, alle Hawaii. Come sapete, un paradiso terrestre, almeno secondo quanto vediamo nei film, ma in realtà sì, lo è. Però non per le cose che sono successe in questa storia. Comunque, la casa si trova a soli pochi minuti di macchina dall'aeroporto, in un quartiere residenziale e tranquillo, che dal punto di vista estetico ricorda molto il tipico sobborgo americano. Un grande viale alberato e le case che hanno tutte più o meno la stessa struttura, per non dire che sono fatte con lo stampino. I Campbell si innamorano immediatamente della casa e tutto sembra prevedere un futuro fiorente per loro, un futuro sereno, spensierato. Come ho già accennato, non sarà così. Tutto ha inizio nel giugno del 2019, quindi poche settimane dopo il trasferimento. Un pomeriggio, Brittany scende in garage per recuperare delle cose. Quel lato della casa, al momento, è ancora colmo di scatoloni, dato il recente trasferimento. E nel momento in cui Brittany accende la luce, nota che tutte le scatole sono state rovesciate e tutto il loro contenuto si trova a terra. Ma il fatto ancora più strano è che sembra che la stanza sia stata setacciata, come se qualcuno avesse cercato qualcosa tra i loro oggetti. Oltretutto, alcuni di questi oggetti si trovano accumulati in strane pile senza un senso logico e disposti come se fossero in vendita a un mercatino delusato. Brittany, presa dal panico, esce dal garage e chiama James. Quando anche lui si trova davanti tutto il casino, rimane scioccato e comincia immediatamente a perlustrare il garage per vedere se mancasse qualcosa, ma non sembra mancare niente. Questo fa capire alla coppia che non si tratta di una rapina, e subito pensano che possano essere stati i due figli, che magari hanno rovistato nel garage, non hanno rimesso a posto, cose del genere. Tuttavia, i due ragazzi negheranno tutto. Allora, pensando logicamente, provano a dare la colpa al loro cane, che avevano acquistato una volta arrivati sull'isola. James comunque non sembra dare tanto peso all'accaduto, mentre Brittany rimane abbastanza spaventata. Nonostante ciò, la famiglia decide di dimenticare quello che è successo e non investigare oltre. Passa circa una settimana dall'incidente in garage. È mattina e Brittany si trova sola in casa. È in camera sua e si sta truccando davanti allo specchio. Mentre è immersa nei suoi pensieri, sente la porta del piano di sotto che si chiude in maniera violenta, come se qualcuno l'avesse sbattuta. Brittanisso balza dalla paura, aspetta un paio di secondi e urla il nome di James e dei ragazzi. In quel momento credeva che fossero tornati, però non riceve risposta. Così urla più forte, ma la casa è immersa nel silenzio. La donna inizia a pensare a tutte le ipotesi possibili, anche perché è ancora turbata dall'incidente in garage, nonostante non ne abbia più parlato con James. Per cercare di scartare i peggiori pensieri si fa venire l'idea che possa trattarsi di suo marito che ha dimenticato qualcosa in casa ed è rientrato velocemente per recuperarla, ma rimane comunque perplessa per il fatto che non le avesse risposto. Brittanisso a questo punto non può fare a meno di pensare che qualcosa non vada, quindi si alza e cammina verso la porta. Dalla camera da letto principale si ha la vista sull'intero corridoio del secondo piano e dall'altra parte si trova l'altra camera da letto. In mezzo al corridoio c'è la scala che porta al piano terra. Brittanisso si trova ancora sulla soglia di camera sua, guarda nel corridoio ma non vede nessuno e grida di nuovo il nome di James, ma di nuovo non c'è nessuna risposta. Fa quindi un respiro molto profondo e inizia a camminare, arrivando accanto alla scala, poi comincia a scendere. Il silenzio però sembra diventare ancora più angosciante ad ogni suo passo e in lei si fa strada la terribile sensazione di essere osservata. Brittany chiama a bassa voce il nome del marito e dei figli, ma la casa rimane ancora immersa nel silenzio più totale. Arriva quindi di fronte alla porta d'ingresso e la spalanca. Si aspettava di vedere l'auto di James nel dialetto o insomma qualche traccia di passaggio dei suoi figli, ma sembrava non essere passato nessuno. Il quartiere in quel momento è deserto. Brittany richiude la porta, questa volta a chiave, e decide di farsi coraggio per lustrare l'intero piano terra. Controlla ogni stanza, ogni finestra e ogni angolo per verificare che non ci fosse nessuno. Poi sarà al piano di sopra e fa la stessa cosa. Torna quindi nella sua stanza per finire di prepararsi, ma non riesce a togliersi dalla testa il fatto che abbia chiaramente sentito la porta d'ingresso, sbattere, violentemente, e che possa esserci una correlazione con l'incidente avvenuto in garage. Verso la sera la famiglia è di nuovo riunita in casa, e Brittany decide di parlare con James di ciò che è successo quella mattina. L'uomo subito nega di essere passato da casa, così come fanno anche i figli. La donna allora ricomincia a farsi prendere un po' dal panico, ma James la rassicura, cercando di fornire qualsiasi spiegazione logica, come una semplice corrente d'aria che ha fatto sbattere la porta. La donna tuttavia è certa che non potesse trattarsi di questo, perché la porta è sempre chiusa a chiave, quindi l'idea di non averlo fatto e di averla addirittura lasciata socchiusa è impensabile per lei. Come con l'incidente del garage, James risulta riluttante e rassicura la moglie dicendoli di non farsi prendere dal panico. Questa volta però Brittany non riesce a darsi pace e si arrabbia con il marito, così i due cominciano a litigare. La discussione continua fino a quando i coniugi vanno a dormire. Qualche ora più tardi, più o meno dopo mezzanotte, Brittany viene svegliata all'improvviso da un rumore al piano di sotto. La donna spaventata si mette seduta sul letto e inizia ad ascoltare attentamente i rumori provenire dal piano terra. Sente il rumore di una porta che si apre cigolando e che si richiude con forza. A questo punto è sicurissima che al piano di sotto ci sia qualcuno. Quindi sveglia James strattonandole e dicendogli che ha di nuovo sentito le porte che si aprono e si chiudono da sole. Lui visibilmente turbato e ancora arrabbiato dice alla moglie di stare tranquilla e di rimettersi a dormire. Ma Brittany non si dà per vinta, è sicura di quello che ha sentito. Così gli dice che andrà lei stessa a ispezionare la casa. La donna si alza e guarda fuori nel corridoio, ma non vede nulla e la casa cade di nuovo nel silenzio. Scende le scale con il cuore a mille e quando arriva al piano di sotto vede che la porta d'ingresso non solo non è chiusa a ma è letteralmente spalancata. Nella mente della donna iniziano a scorrere mille pensieri e possibili ipotesi per cui la porta dovrebbe essere aperta. Così pensa che possa trattarsi dei figli che sono scesi per fare uno scherzo. Richiude la porta, ispeziona il piano terra e chiama sottovoce i due ragazzi. Ma non risponde nessuno. Così torna di sopra e va in camera loro per scoprire che entrambi dormono profondamente. La donna torna di corsa in camera di James e spaventata gli dice quello che è appena accaduto e che la porta d'ingresso era spalancata. Ma l'uomo si arrabbia ancora di più e la rimprovera dicendo che sta diventando paranoica e che è la sua testa che le fa sentire i rumori delle porte che sbattono. Quello e tutti i rumori strani. Ma in quel momento, mentre le dice queste cose, di nuovo il rumore di una porta che si chiude sbattendo. James si blocca e cambia immediatamente espressione. A questo punto nemmeno lui può negare l'evidenza. Guarda la moglie e le dice di restare lì mentre lui scende a vedere cosa succede. Finalmente aggiungerei. Torna dopo pochi minuti e dice a Brittany che la porta sul retro era aperta. Ma le dice anche di non preoccuparsi perché probabilmente era stata quella la causa della corrente d'aria che ha fatto di nuovo sbattere la porta principale. La rassicura dicendole che ora tutte le porte sono chiuse a chiave ed è ora di rimettersi a letto. Brittany però è incredula. Si agita e rimprovera il marito dicendogli che non è possibile negare l'evidenza e che sta sicuramente succedendo qualcosa di strano in casa. Partendo dall'incidente in garage fino ad arrivare a tutte le porte che sbattono senza motivo e la porta d'ingresso spalancata. Insomma la coppia comincia di nuovo a litigare fino a quando entrambi esausti decidono di lasciar stare e di rimettersi a dormire. Pazzia ma anche nei film succedono queste cose c'è chi è che non chiamerebbe la polizia? Non lo so. Nelle settimane successive non succede niente di che ma Brittany non riesce ad accantonare l'idea che in casa sia successo qualcosa di davvero strano. Così questi pensieri diventano quasi un'ossessione per lei. James intanto continua ad avere un comportamento scettico sia perché vuole davvero rassicurare la moglie sia perché vuole lasciarsi questa storia alle spalle e vivere serenamente insieme a Brittany e i suoi figli. Tuttavia di lì a poche settimane sarebbe successo qualcosa che avrebbe fatto cambiare l'idea anche a James. Alleluia. Qualche settimana dopo l'ultimo incidente notturno. James è da solo in casa. È una giornata tranquilla per cui decide di approfittare della quiete che regna in casa per dilettarsi con il pianoforte. Inizia a suonare e si lascia trasportare dalle note musicali fino a quando non comincia ad avere la sensazione di essere osservato. Più suona e più questa sensazione si fa intensa al punto che James comincia a sentirsi preoccupato e a disagio. Smette quindi di suonare. Si guarda intorno per assicurarsi di essere solo e quando volge lo sguardo verso la finestra che conduce sul cortile vede chiaramente una sagoma nera in piedi fuori che guarda all'interno. Questa figura è immobile e ha le braccia ferme che scendono lungo il corpo ma il modo in cui è posizionata la tenda non permette a James di vedergli il volto. L'unica cosa che vede da quell'angolazione è questa figura immobile che rimane lì a fissarlo. L'uomo ovviamente e finalmente si spaventa e non appena comincia a provare questa sensazione di paura la figura si muove e comincia a dirigersi verso il retro della casa. James allora corre verso la finestra che dà sul cortile sul retro e guarda fuori ma non c'è nessuno. Così torna velocemente alla finestra in cui aveva visto la sagoma la spalanca ma anche lì non c'è più nessuno. L'uomo ha il cuore a mille ma come al solito cerca di trovare una spiegazione razionale e si convince che quasi sicuramente si era trattato di un vicino curioso che aveva sentito il pianoforte magari e si era avvicinato alla finestra per sentirlo suonare. Nonostante la sua razionalità l'uomo sa che in fondo non si tratta di una cosa normale ma sarà l'incidente successivo a convincerlo definitivamente del fatto che qualcosa non andava. Non passa molto tempo dalla vicenda del pianoforte e una sera l'intera famiglia decide di andare al cinema per schiarirsi un po' le idee, passare un po' di tempo insieme senza pensare a nulla. Si preparano tutti ad uscire ma Brittany prima di farlo dice che vorrebbe portare con loro la coperta dei film come la chiamavano, una grande coperta di lana che amavano usare quando si sedevano insieme sul divano a guardare la tv. La donna decide di volerla portare al cinema per ricreare l'atmosfera calda e familiare come a casa. Quindi va in soggiorno per prendere questa coperta ma nota subito che non c'è, sarebbe dovuta essere sul divano ma non era lì. A questo punto quindi chiede a suo marito e ai suoi figli se avessero idea di dove fosse questa coperta ma loro rispondono di no. Nessuno in quel momento sa dove cavolo sia quella coperta quindi lasciano perdere semplicemente ed escono di casa senza la coperta dei film. Al cinema tutto va nel migliore dei modi e qualche ora dopo tornano tutti a casa ma quasi subito notano tutti un dettaglio molto inquietante. Lì sul divano c'è la coperta dei film piegata e perfettamente in ordine. Tutti i membri della famiglia sanno benissimo che prima di uscire non c'era niente e finalmente anche James si convince del fatto che in casa stesse accadendo qualcosa di davvero inquietante. Durante le settimane successive tuttavia Brittany e James cercano di farsi coraggio e di rassicurare continuamente i loro figli dicendo costantemente che va tutto bene ma anche loro sono terrorizzati dall'incidente della coperta, dalle porte che si sbattono, dalle porte che si aprono e chiudono da sole, dal cane che comincia ad abbagliare nel cuore della notte senza nessun motivo e dalla perenne sensazione di essere osservati. Tutti nella famiglia avevano questa sensazione e più passavano i giorni più era forte. Così nel settembre di quell'anno la famiglia decide di cambiare aria e di tornare in America. Sarebbero poi ritornati a Donoghulu dopo circa una settimana. Al ritorno, durante il tragitto dall'aeroporto a casa, James e Brittany sperano davvero che qualsiasi evento strano accaduto fino a quel momento in quella casa non si sarebbe mai più ripresentato e che finalmente avrebbero potuto vivere serenamente. Ma non appena si avvicinano al vialetto dell'abitazione, entrambi capiscono che non sarebbe stato così. Davanti alla casa trovano la bicicletta di James. Brittany quindi chiede al marito se prima di partire l'avesse lasciata lui lì. E lui, senza nemmeno voltarsi, scuote la testa. È visibilmente preoccupato. Quindi arriva davanti alla porta del garage, si ferma e preme il pulsante di apertura del portone. I Campbell sono seduti in macchina e hanno tutti lo sguardo rivolto verso quella porta che si sta aprendo lentamente. Pochi secondi dopo riescono a vedere al suo interno. Tutto è stato completamente distrutto. Questa volta gli oggetti non sono solo stati tirati fuori dagli scatoloni, ma sono stati anche fatti a pezzi. James dice alla moglie che si tratta senza dubbio di una rapina. Così salta fuori dall'auto dicendo a sua moglie di restare dentro, recupera una mazza dal garage e si dirige verso la porta d'entrata. Nel frattempo Brittany ha il telefono con la polizia per riferire che c'è stata una violazione di domicilio. James intanto entra in casa e nota con orrore che era stato tutto completamente messo sotto sopra. Lo scenario è identico a quello del garage. In quel caos ci sono delle strane pile di oggetti disposti uno sopra l'altro con un apparente schema, ma che in realtà non sembrano avere un senso messo in quel modo. È tutto molto simile a ciò che era successo la prima volta nel garage, in cui gli oggetti nei cartoni erano accatastati in una strana disposizione. Per farvi capire, ci sono pile di sottobicchieri, di libri, di dischi, tutto messo insieme, volutamente. Come se chiunque l'avesse fatto volesse dire qualcosa, qualcosa di incomprensibile. Ma ciò che attira di più l'attenzione di James e lo fa davvero preoccupare sono tutte le fiali di farmaci e di sostanze chimiche sparse ovunque. L'uomo sa bene che quelle sostanze non appartenevano alla sua famiglia. James sale al piano di sopra, aspettandosi di trovare lo stesso scenario delle altre parti della casa. Ma quando entra nella camera dei figli nota con grande stupore che tutto è perfettamente in ordine. I letti sono stati rifatti con una precisione militare e tutti i giochi e i loro oggetti, che di solito erano sparsi sul pavimento, sono stati tutti rimesse in ordine nei cassetti o sulle mensole. James si volta e corre verso camera sua e di Brittany e ciò che trova lì peggiora ancora di più la situazione. La stanza è stata completamente distrutta come tutto il resto della casa e sul pavimento ci sono rifiuti e scarti di cibo. L'unico punto della stanza non essere stato toccato è il letto, più o meno. Sopra la coperta infatti c'è un asciugamano e su di esso, ben distanti l'uno dall'altro ci sono dei grossi coltelli da cucina. Vicino ai coltelli si trova il computer portatile della famiglia Campbell. È aperto ma lo schermo è spento. In quel momento arriva anche Brittany e i due iniziano a toccare i tasti a caso al computer così lo schermo si accende e mostra un lunghissimo documento tipo un file di Word. James inizia a scorrere con il mouse fino all'inizio del documento e legge che il titolo è Sperimentazioni sugli Onnivori e come sottotitolo una riabilitazione per persone simili ai ratti. L'intero documento è una specie di diario. Ci sono varie osservazioni sui cosiddetti esemplari e questi esemplari sono molto chiaramente i membri della famiglia Campbell. Le osservazioni scritte sono spaventosamente intime. Infatti l'unico modo per raccoglierle sarebbe stato osservare la famiglia da molto vicino per giorni, settimane o addirittura mesi. Il documento trattava di qualsiasi cosa, dai programmi che la famiglia amava guardare in tv alle conversazioni intime tra James e Brittany fino al loro desiderio di avere un figlio insieme. Alla fine di questo documento l'autore esprimeva la sua conclusione scioccante, secondo la quale per poter riabilitare queste persone simili ai ratti, ovvero i Campbell, avrebbe dovuto eseguire diversi interventi chirurgici su di loro. Interventi come l'amputazione delle mani e la riassegnazione di genere, che sinceramente non ho molto capito in cosa consiste. Ma in generale questo documento non aveva molto senso. Presto capirete il perché. Come ultima cosa, infatti, c'era una nota che descriveva in modo dettagliato tutti i diversi strumenti chirurgici che l'autore avrebbe dovuto usare durante questi interventi, nonché un elenco di farmaci e sostanze chimiche necessari per la loro sedazione. I coniugi così capiscono che tutti quei coltelli appoggiati sull'asciugamano erano per loro, e tutte quelle strane fiale di sostanze che avevano appena visto al piano di sotto erano senza dubbio destinate assedarli in vista dell'intervento. Ma prima di arrivare a ciò, facciamo un piccolo passo indietro perché non vi ho parlato volutamente di una cosa molto importante. 15 minuti prima che James e Brittany entrassero in camera da letto, James si trovava davanti alla porta d'ingresso con la mazza, mentre sua moglie era ancora in macchina che stava chiamando la polizia per avvisare dell'infrazione. L'uomo in quel momento ha infilato la chiave nella serratura e con l'altra mano ha tentato di aprire la porta, che nonostante la spinta è rimasta bloccata, anzi sembrava che qualcuno all'interno della casa stesse opponendo resistenza. Quindi James si è abbassato e ha spinto la porta con tutte le sue forze e tutto il suo peso, finché non si è aperta di pochi centimetri. A quel punto l'uomo ha finalmente potuto vedere all'interno della sua casa, tramite una piccola fessura però, e all'improvviso davanti a lui è comparso un volto. La persona che si trovava dietro la porta lo ha fissato dritto negli occhi e gli ha detto immediatamente che quella non era casa sua, prima di richiudere la porta con forza. A quel punto il padre di famiglia, in una furia alimentata dall'adrenalina, si ha canito di nuovo sulla porta, riuscendo finalmente ad aprirla. Ha poi preso quello sconosciuto che si trovava in casa sua, l'ha tirato fuori e l'ha gettato violentemente a terra in giardino. A questo punto James lo ha minacciato di restare fermo dicendo che se si fosse mosso l'avrebbe colpito con la mazza. Ma l'intruso non era altro che un ragazzo di 26 anni che si chiamava Ezekiel Zayas. Stava fissando James senza battere ciglio e un paio di minuti dopo, all'arrivo della polizia, non ha opposto la minima resistenza ed è stato arrestato. Solo dopo tutto ciò James e Brittany entrano in casa e scoprono quell'orrore nel computer. Dopo le indagini si sarebbe scoperto che mesi prima Ezekiel aveva trovato un modo per intrufolarsi dentro la proprietà dei Campbell e così nel periodo del trasferimento anche il ragazzo si era trasferito lì con loro. Viveva lì, per lo più stava nel vespaio sopra il bagno del secondo piano. Scendeva di notte per osservare i membri della famiglia, ma sulla base dei documenti nel computer si è poi scoperto che il ragazzo li osservava anche di giorno, stando attentissimo a non farsi vedere. Ecco perché avevano tutti la sensazione di essere osservati. C'era davvero qualcuno, in casa loro, uno sconosciuto che li stava guardando. Ezekiel si stava preparando per eseguire effettivamente degli interventi chirurgici sulla famiglia. E sul laptop della famiglia, appunto, sono state anche trovate delle foto che Ezekiel si era scattato durante quei mesi, come questa. Come si può già intuire da questo semplice scatto, Ezekiel non era per niente una persona stabile. Quello che farà dopo, infatti. Nonostante l'arresto, sarebbe stato addirittura peggiore. Dopo questo inquietantissimo incidente, i Campbell hanno cambiato casa e al momento per ragioni di privacy non si sa dove si trovano. Il ragazzo, invece, ha continuato a terrorizzare le persone anche da dietro le sbarre. Perché? Perché in attesa del processo, era stato prima inviato in un ospedale per verificare le sue condizioni mentali e poi in un penitenziario. Lì, si è scoperto che il ragazzo aveva tendenze omicidi piuttosto preoccupanti, nonché una propensione per la violenza, lo stupro e tutta una serie di comportamenti criminali. Si è poi stabilito che non avesse provato alcuna pietà per i Campbell e che li vedesse davvero come cavie su cui sperimentare. Tutto molto preoccupante, direte voi. E infatti, era proprio così. Era preoccupante. Per questo venne rinchiuso in un penitenziario. Ma prima ancora che il processo potesse cominciare, Ezekiel ha fatto qualcosa di davvero terribile. Il 31 agosto del 2020, mentre si trovava in una cella di quarantena con altri due detenuti, il ragazzo ha picchiato a morte uno dei due. Il 62enne, Vance Grace. Tra l'altro, il 62enne sarebbe uscito di prigione solo il mese dopo e sarebbe stato libero. Ma a causa della furia di Ezekiel non avrebbe mai riassaporato la libertà. Questo omicidio e ovviamente la pandemia hanno allungato ulteriormente i tempi del processo, che è iniziato solo nel 2023. Ma finalmente, nell'estate dello scorso anno, Ezekiel è stato condannato a 40 anni di reclusione. Più di preciso, a 20 anni per l'omicidio di Vance Grace, che è stato classificato come omicidio di secondo grado. Poi a 10 anni per furto con scasso, per il caso della famiglia Campbell e altri 5 anni, più altri 5, per furti correlati a casi precedenti. Il ragazzo, ora trentenne, passerà in teoria 40 anni dentro le sbarre, ma oltre a questo è probabile che riceverà ulteriori accertamenti e cure psichiatriche. Questo era lo spaventoso caso della famiglia Campbell. All'inizio sembrava quasi la trama di un film horror paranormale, che si è poi trasformato in fretta in un agghiacciante thriller giallo. Ma non era un film. È successo tutto davvero. E le cose sarebbero potute finire in maniera decisamente peggiore se Ezekiel avesse portato a termine il suo esperimento. Oggi sono davvero molto curioso di sapere cosa ne pensate. Cioè, vi aspettavate che finisse così? E soprattutto, come reagireste se scopriste che qualcuno, per mesi, è rimasto dentro casa vostra ad osservarvi e a pianificare degli interventi chirurgici su di voi? Questa storia è veramente assurda. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che prestissimo parleremo di un caso che ha fatto molto discutere ultimamente. Molte persone infatti in quel caso sono convinte che una delle persone coinvolte in un omicidio non sarebbe mai dovuta andare in carcere. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare i pulsanti iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!